Fabolosità, favolosità, 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 favolosità Ciao favolose e favolose, benvenuti nel secondo video scopriamo le creazioni di resina secondo video su questo canale, non che l'abbia fatto in altri canali, non l'ho mai fatto, l'ho fatto una volta sola e questa è la seconda, queste pochissime creazioni le ho fatte ieri sera in live su twitch ragazzi vi invito a seguirmi su twitch, trovate il link qui sotto, la prima dicitura che trovate appunto sotto nell'info box perché farò le live creative e anche tante altre tipi di live, tante altre tipi di live ok contabile c6, sono le 10 di mattina però va bene, poi mi devo sbrigare perché devo andare al lavoro oggi pomeriggio in ogni caso vi dicevo di seguirmi su twitch perché li farò tante live creative e non, trash e non, simpatiche e non andiamo subito a iniziare a scoprire da dove partiamo, voglio partire da questo, da questo quadrifoglio che è uno degli ultimi stampi che mi è arrivato allora, sembra che sia venuto, no ci sono delle bolle ci sono delle bollicuine però solo da una parte, solo che qua è troppo sottile ho delle maniche, poi le pellicine e la resina sotto adoro ah, in teoria dovrebbe stare così, ma così ci sono le bolle non è che mi faccia impazzito stampo eh però, ormai è fatta poi, altro quadrifoglio voglio provare questo se non si rompe tutto che tra l'altro non so, la resina non è neanche asciuttissima questo qui è veramente sottile c'è un terrore di romperlo e non essendo asciuttissima la resina rischiamo no vabbè, sembra che sia venuto allora, così deve andare è un po' opaco il suo stampo, ma si lucida carino, questo mi piace questo mi piace, però lo devo rinforzare un po' credo con la resina UV che ancora non mi è arrivata da Amazon è un po' così vediamo se si asciuga se diventa comunque meno flessibile mi piace un casino, adoro poi, facciamo la foglia d'acero che acero non è? che almeno io, secondo me non è una foglia d'acero wow vabbè, è un po' da tagliare c'è da rifinire però è bellissima comunque questi colori in pasta per esistare simproso sono veramente buoni sì, ancora si deve asciugare un po', eh però è fantastica questa foglia di acero poi, i cioccolatini li lascio per ultimi andiamo a vedere questi orsetti gommosi vediamo se sono riuscito a non fosci le bolle no, qua sulle braccia c'ha le bolle quindi questo via questo c'ha una bolla qui questa stampa è maledetta come quello della mano bolle pure qui sulle mani poi non l'ho fatto neanche trasparente perché non era in programma di fare gli orsetti gommosi mi ha avanzato del verde comunque bolla bolla ah, sta un po' maledetta è malefico bolla, bolla niente, l'unica è metterci qualcosa con la colla la E6000 che mi ha consigliato Valentina ma ancora devo prenderla devo prendere se devo prenderla è uguale bolla, bolla bolla, bolla cioè tutto nello stesso punto poi secondo me qua devo colare prima a poca a poca uh questo è avvenuto non c'è neanche una bolla questo penso sia avvenuto non c'è neanche una bolla si oh non cadere tu maledetto è avvenuto uno su su dieci prince stai buono tu eh cicciolo anche questo c'ha no due bolle bolla, bolla ne è avvenuto uno solo su due, quattro, sei, otto su nove uno su nove mi ricorda molto le le sorpresine dell'ovetto kinder di quando ero piccolo che era una sorpresa su cinque e c'era quella canzoncina della secondo me erano le tartarughe una sorpresa una sorpresa una sorpresa una sorpresa su cinque sarà una di noi o uno di noi è arrivato il pezzo forte mmm questi però ancora sono morbidissimi è ancora morbida comunque questo pigmento è venuto trasparente di nuovo e non cioè l'ho mescolato per un bel po' ma non mi fa seccare la resina vediamo un po' non è appiccicoso quindi si può tirar fuori eh qua come vedete tutto da una parte qua ragazzi qualcuno mi sa consigliare come mescolare questo questo pigmento in polvere oro perché cioè mi rimane o da una parte o comunque trasparente se ne metto poco e se ne metto tanto non non asciuga questi qui io le rinficco e si incandere a buongiorno le rimetto qua così si asciugano sperando che si asciughino e poi vi saprò dire su instagram seguitemi sul profilo creativo che si chiama il contabile underscore favolosita mi sono dimenticato che c'era pure questo adoro adoro il cactus bello duro state tutti buoni non abbaiate che si registra un video qua è rimasto rimasto io di là dello smuffolo non so se vi ricordate a parte che è ancora morbido però questo cactus è veramente bello io lo adoro lo adoro lo adoro si anche questo lo tengo dentro così si finirà di asciugare niente raga a me la mia creazione preferita è questa oggi è venuta veramente carina da lucidare per carità ma qua ci posso pure infilare dentro la resino vini posso fare un sacco di cose adoro mi piace un sacco questo stampo che era questo ecco questo un po' meno raga perché non c'ha molto senso ma poi è brutto non si capisce neanche che è un quadrifoglio recensione negativa comunque avrete visto il video spacchettamento lunghissimo che dire favolosi e favolosi follettini e follettine direi che questo video può finire anche qui se vi è piaciuto mi raccomando un bel like se non vi è piaciuto ragazzi mettete lo stesso like perché tanto è la stessa cosa se mettete like e dislike è uguale non cambia nulla e se non siete iscritti al canale e vi fa piacere mi raccomando iscrivetevi questo è il canale creativo però c'è anche il canale principale dove tornerò attivo molto presto comunque per gli inizi di settembre che si chiama il staccato contabile contabile poi con l'h finale instagram vi ho già detto il profilo creativo è il contabile underscore favolosita mentre quello principale che utilizzo molto di più ovviamente è il contabile con l'h finale tutto attaccato noi ci vediamo al prossimo video e nel frattempo mi raccomando fate i bravi se non viene il cactus smuffolo e vi uccide ciao raga grazie a tutti